Franco Genzale presenta la siringa di Mila Martinetti. Il sottosegretario Carlo Sibilia Dixit, grazie al lavoro della struttura commissariale ottimamente guidata dal generale Giuseppe Badalà, la bonifica della discarica abusiva di Andretta ha dato i suoi frutti e l'Italia non deve più pagare i 400 mila Euro l'anno già sborsati per un triennio a fronte della procedura di infrazione decise dall'UE. Bravo Sibilia, stavolta senza ironia, ora in presenza della discarica abusiva che metaforicamente è diventata la politica verdinese e in deroga una tantum ai compiti istituzionali del commissario non potrebbe il sottosegretario dire al generale Badalà, per favore venga qua.